Non avete sentito la campanella? Ah, che schifo! Così le farà a rucinire l'apparecchio! Lui è Manu, il mio migliore amico. Sapete parlare con i ruddi? Lui è Ugo, il mio secondo migliore amico. Il tizio con la baba è Jean-Claude. Sparisci, qua è la mia foto! Le ragazze sono tutte inutili, tranne Nadia. Nadia è talmente bella che un giorno voglio sposarla. Mi lasci respirare? Beh, il problema è che fu sempre una ragazza. Ma quando le parlerai? Le manderò una lettera anonima. Ti porterò con me sulla mia maricella spaziale. Ma è poesia! Sei davvero un pisellino buono a nulla! Il mio papà è fortissimo. Questa è la mia mamma, la adoro. Ha letto? Tranne quando dice questo. Potevi lasciargli finire la partita, no? È chiaro che quando serve l'autorità non è su di te che si può contare. E clac, ha chiuso la porta e se n'è andata via. Wow! Una ragazza non faccio... Dobbiamo fare il punto della situazione. E per farlo meglio non hai bisogno del mio Game Boy? Non li capisco davvero. Non serve andare dalla nonna per riflettere. Lei parla in continuazione. Basta, preferisco parlare con le mie zucchine. È vero, amore mio. Tra verdure vi capirete di sicuro. Cosa? Non sono invitato. A compleanno di raggio non sono invitato. Non mi vedi qui! Ma non sono qui! Su! Fuori tutte e due! Lo spiegherete al direttore. Su! Eh... Il direttore si chiama Su. Non mi vedi qui! Ma non sono qui! Super bomba atomica! Cosmica di vomito cosmico! Buongiorno, signor diretto! Dal 25 luglio al cinema, anche in 3D.